Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è a cura del pastore Davide Rostan. Bene, benvenute e benvenuti. Ci ritroviamo dagli studi di Radio Beckwith per iniziare insieme questo nuovo anno, questo 2024. Lo facciamo oggi insieme celebrando questo culto ascoltando la parola del Signore e raccogliendoci nel suo nome. Lo vogliamo fare ascoltando insieme il Salmo 8 che ci dice così. O Dio Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Tu hai posto la tua maestà nei cieli. Dalla bocca di bambini e dei lattanti hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici, per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Quando io considero i tuoi cieli opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo? Perché tu lo ricordi. E il figlio dell'uomo? Perché tu te ne prenda cura. Eppure tu l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio e lo hai coronato di gloria e di onore. Tu l'hai fatto dominare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i tuoi piedi, pecore e buoi tutti quanti e anche le bestie selvatiche della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare e tutto quel che percorre i sentieri dei mari. O Dio, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Ci vogliamo raccogliere in preghiera. Signore aiutaci a ricordare quanto tu ti sei preso cura di ciascuno e di ciascuna di noi e quanto è magnifica la tua creazione. Tu hai ridotto il silenzio e l'avversario e il vendicatore. Aiutaci a fare altrettanto, aiutaci dunque a mettere al centro della nostra azione la tua giustizia e non le nostre presunzioni, non il nostro privilegio. Aiutaci ad essere custodi gioiosi della tua creazione e non complici della sua distruzione. Amen. Grazie a tutti. 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 Il testo che vi voglio proporre per oggi, per iniziare questo anno insieme, è tratto dal Libro degli Atti, un testo in qualche modo che ci riguarda perché parla di noi, della Chiesa, di come ci si organizza, è un testo organizzativo. Ve lo leggo, il capitolo 6 del Libro degli Atti, dal versetto 1 al versetto 7. In quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. I dodici, convocati alla moltitudine dei discepoli, dissero, non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi sette uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Questa proposta piacque a tutta la moltitudine e dell'essero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. La parola di Dio si diffondeva e il numero di discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme e anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Quali sono dunque le nostre esigenze oggi, le esigenze della Chiesa? Di cosa abbiamo bisogno? Per riscondere a questa domanda ci si dovrebbe chiedere a che cosa serve una Chiesa, la nostra Chiesa o una Chiesa in generale? Una Chiesa serve per avere un culto, per occuparsi di educazione dei più giovani, per svolgere i vari liti liturgici, funerali, matrimoni, battesimi, per andare a trovare gli ammalati, le persone che sono da sole, quelle che sono in difficoltà. Annunciare la parola di Dio, come ci ricorda anche questo brano, è un compito della Chiesa. Chiediamoci a che livello delle nostre priorità è l'annuncio. Testimoniare in parole e azioni il regno di Dio che viene agendo e praticando questa parola nel mondo è un compito della Chiesa? Quali sono le nostre priorità? Molti anni fa alcuni nostri fratelli, alcune nostre sorelle all'inizio degli anni Sessanta sulla rivista Diaconia, sul primo numero, in un editoriale scrivono che il compito della Chiesa non è di vivere per sé, ma di vivere per il mondo, non di salvare se stessa, poiché Cristo l'ha già salvata, ma di portare al mondo Cristo il Salvatore. In qualche modo questo ha a che fare sia con noi che con questo brano nel quale anche noi troviamo una conflittualità, un doversi organizzare. Ci sono questi ellenisti, probabilmente i neoconvertiti, che arrivano non dal mondo ebraico, ma dalla diaspora o dal mondo pagano, che si lamentano perché non vengono accudite come si deve le loro vedove. Quindi le persone più anziane nella comunità rimaste senza marito, il pezzo di questa comunità che evidentemente si sente un po' di serie B. Anche oggi a volte nella nostra vita ecclesiastica andiamo incontro a discussioni di questo tipo. Quali sono le priorità del pastore o del concistoro? Che cosa è più importante fare? Il pastore deve mettere l'accento sull'evangelizzazione, sul rivolgersi verso l'esterno, sul fare delle conferenze, sull'organizzare un progetto di evangelizzazione fuori dalle valli, sull'occuparsi delle persone che non vengono mai in chiesa, oppure invece deve dare la maggior parte del suo tempo alla cura delle persone che nella chiesa ci sono, che ne fanno parte, che ne sono state colonne in passato. Il concistoro deve sviluppare nuovi progetti missionari in giro per l'Italia a portare la parola di Dio a chi non conosce l'evangelo, non conosce la parola del mondo protestante, oppure si deve occupare degli stabili e di mantenere viva la memoria della nostra storia, di tenere in piedi le nostre scuole, i nostri monumenti, eccetera. Tutte le volte che noi ci ritroviamo insieme a discutere affrontiamo delle discussioni in fondo simili a quelle che affrontano i discepoli in questo libro degli atti. E infatti la risposta dei dodici, dei dodici apostoli, in questa assemblea convocata a causa di questa discussione, loro rispondono non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. E qui si intuisce che probabilmente queste mense erano un po' un aiuto per le persone più in difficoltà, queste vedove. Non sappiamo se le vedove ricevessero quello che noi oggi chiameremo i pacchi alimentari, come in alcuni nostri progetti della diaconia comunitaria o se invece fossero proprio delle vere e proprie mense organizzate dove alcune persone potessero andare. Forse lo scenario più corrispondente al primo in cui queste persone avevano bisogno di cura, di qualcuno che gli portasse dei viveri di prima necessità, dedicasse loro del tempo e che però appunto questa richiesta rivolta ai discepoli, fai sì che i discepoli dicano ma noi ci occupiamo già della parola di Dio, cioè dell'annuncio, non è conveniente, non possiamo fare tutto e quindi forse è meglio che ci occupiamo della parola di Dio anziché di servire nelle mense. Infatti la soluzione proposta è fratelli cercate di trovare fra di voi sette uomini, non sette qualsiasi, sette di cui si abbia una buona testimonianza, quindi persone radicate nella comunità, impegnate, che sappiano fare delle cose, che abbiano un buono spirito, una buona sapienza. E noi continueremo a dedicarci alla preghiera al ministero della parola. L'ho tagliato un po' con l'accetta prima ma così ci capiamo, ma questo conflitto tra che cosa è prioritario condiziona la vita delle nostre chiese da sempre, potremmo dire, dai tempi appunto del libro degli atti. Delle esigenze che potremmo chiamare più interne o esterne. L'annuncio, la missione, andare in nuove città, accogliere, incontrare, andare a trovare nuove persone. È chiaro che ci sono ruoli e ministeri di vario tipo, questo brano ci racconta anche che queste sette persone vengono trovate, vengono consacrate, vengono riconosciute attraverso una presentazione ufficiale e sono sette persone probabilmente provenienti proprio da quel mondo lì, se stiamo ai nomi. Filippo, Procoro, Parmena, non sono nome tipicamente della comunità ebraica, della comunità storica ebraica e questo ci fa anche pensare che probabilmente le persone stesse che segnalano il problema sono quelle che poi vengono anche incaricate di prendersene carico, che da una parte può essere letto come un qualche cosa di triste di quello che poi accade, ogni volta che uno fa una critica, che uno fa una proposta poi se ne deve occupare lui. Dall'altra però in positivo possiamo invece leggere in questo racconto il fatto che ci sono sette persone nuove disponibili persino a questo proselito di Antioca, quindi uno nuovo appena arrivato. Gli apostoli valutano, pregano per loro perché c'è appunto bisogno della preghiera, c'è bisogno che il ministero sia accompagnato dalla cura degli altri e in particolare dalla cura che il Signore può dare a loro. Dio dà dei servitori alla sua chiesa e la sua chiesa non soltanto ringrazia ma prega e li accompagna. In questo racconto troviamo quello che oggi può essere paragonato all'istituzione di una celebrazione di consacrazione dei diaconi, un servizio alle mense, ciò che è più tipicamente diaconale, ma in qualche modo questo racconto ci spiega anche che le cose sono entrambe necessarie, ma non tutti possono fare tutto. È un brano simile a una situazione che noi viviamo, non siamo tanti, bisogna quindi ridistribuire, reinventare, modificare i nostri comportamenti al fine di migliorare e di mantenere ciò che è la priorità. Non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense, non vuol dire che le mense non siano altrettanto importanti. Molto spesso infatti troviamo nel testo del Libro degli Atti o in molte altre lettere dell'Apostolo Paolo, del Nuovo Testamento, delle critiche, dei modi anche di comportarsi che vengono consigliati al fine di mantenere una testimonianza, un'unica della Chiesa, un certo tipo di comportamento. In qualche modo la parola rivolta all'interno è una parola rivolta a darsi una struttura migliore, più efficace e più corrispondente a ciò che si vuole testimoniare. Qui è una questione più di funzionalità, non è possibile che le stesse persone abbiano la responsabilità sia dell'annuncio della parola sia delle mense e quindi bisogna trovarne delle altre. E questo ci insegna anche che la leadership, i ruoli, i ministeri non partono dall'alto ma dal basso, da una richiesta, da un'esigenza, da un'esigenza anche di testimonianza. Si reputa utile, necessario, importante, segno di una testimonianza, di una comunione fraterna che si vuole rendere verso l'esterno, il fatto che queste vedove vengano accudite e che qualcuno dedichi loro del tempo all'interno della comunità. Allo stesso tempo non si vuole che questo compito possa sembrare un compito di secondo livello e per questo queste persone vengono scelte, vagliate, valutate, consacrate per questo nuovo ministero. Questo ci dice anche però che la persona che ricopre il ruolo non è che di per sé abbia un qualche ruolo specifico. L'essenza del ministero consacrato non deriva da delle caratteristiche indelebili particolari del ruolo della persona che lo riempie, ma l'essenza del ministero consacrato deriva dal ministero generale della chiesa di cui è parte e nel quale è inserito. Ci sono persone che sono più adatte a fare l'annuncio della parola di Dio, ci sono persone che sono più adatte al servire nelle mense. E questo io credo sia importante oggi per noi perché quando ci si trova in una situazione di difficoltà nella quale facciamo fatica a trovare sette persone che si dedicano a qualcosa. Facciamo fatica perché il mondo ci ha reso più difficile questo compito e ci vuole tempo, ci vuole passione, ci vuole dedizione, ci vuole un mestiere che te lo consente, una vita meno precaria e tutto questo nel mondo di oggi è sempre più complicato. E la chiesa come molte altre organizzazioni che vive grazie all'impegno, alla passione, al tempo, alla vocazione alla quale fratelli e sorelle rispondono, soffre di questa situazione. Magari, potremmo dire noi oggi, magari ci fossero sette persone che uno trova così facilmente per un progetto di diaconia comunitaria. Eppure questo brano non ci insegna solo questo, ma ci ricorda anche un'altra cosa importante, ovvero che effettivamente, come dicevano a inizio degli anni sessanta, il compito della chiesa non è di vivere per sé, resta comunque una priorità, ma è una priorità rivolta verso l'esterno. Il compito della chiesa è di portare Cristo al mondo, il Cristo salvatore da annunciare, altrimenti rischiamo di diventare una chiesa focalizzata su se stessa, che parla a se stessa, che focalizza le sue energie solo all'interno. I dodici avrebbero potuto dire, beh, perfetto, noi possiamo smettere di occuparci dell'annuncio della parola di Dio e ci dedichiamo alle vedove. non sminuiscono l'importanza di questo ruolo, ma ci dicono anche che la priorità resta e continua ad essere l'annuncio di questa parola. Annunciare questa parola però vuol dire anche, come dicevamo all'inizio, chiederci non soltanto a che cosa serve una chiesa e quali sono le sue priorità, ma vuol dire anche che cosa annunciare. Noi siamo capaci di raccontare, di parlare ad altri di ciò che Dio ha fatto per noi, perché questo è in fondo l'annuncio della parola di Dio. Raccontare ad altri e ad altre quello che il Signore fa nella tua vita. Allora, se questo impariamo a farlo, allora è chiaro che questo diventerà per noi la priorità. Raccontare ai nostri colleghi, alle persone che incontriamo, agli amici, che cosa il Signore ha fatto nella nostra esistenza, che cosa il Signore ha fatto per noi. Ed è un qualcosa di così importante che diventa la nostra priorità. Certo, da lì nascerà la Chiesa. La Chiesa, sappiamo, è una creatura di Dio, nasce dall'annuncio, nasce da questa parola e attorno a questa parola si raccolgono delle persone e queste persone, nello stare insieme, sceglieranno dei modi per testimoniare il loro essere nel mondo, il loro annunciare un regno che viene. E tra le varie cose che vengono testimoniate c'è l'essere una comunità e quindi c'è l'essere anche capaci di prendersi cura di quelli che oggi verrebbero definiti soggetti fragili, delle vedove, che hanno bisogno di qualcuno che gli porti qualcosa da mangiare. Ma questo lo facciamo consapevoli che la priorità resta l'annuncio di questa parola, la capacità di farlo e che è un compito non solo di un ministero particolare. Qui sono i dodici che lo dicono, ma potrebbero essere i nostri fratelli, le nostre sorelle di Chiesa, potrebbe essere chiunque. Chiunque può raccontare ciò che Dio ha fatto nella sua vita, chiunque può sperimentare un linguaggio, una parola, un gesto, un'azione per raccontare quello che è la priorità. Non lasciamo che la parola di Dio venga messa in secondo piano da altre cose, non lasciamo che l'annuncio, che la missione della Chiesa venga messa in secondo piano da altro. Tutto il resto c'è, tutto il resto è fondamentale. Per tutto il resto troveremo delle persone che possono essere consacrate a questo compito, ma ricordiamoci sempre che quel compito lì è fatto in vista di una Chiesa che testimonia, che racconta, che annuncia e che esiste in virtù ed è mantenuta in vita dall'annuncio della parola. Amen. Voglio servirti sempre, oh mio Signore, non già perché paura di penare. Ad evitare mi spingare il tuo rigore, ma perché padre mi volesti amar? Voglio servirti non perché m'attenda, un premio in cambio della mia virtù. Sia che già in terra, sia che in ciel risplenda, ma perché vindo mal tuo amor Gesù. Debo il quale ero, misero ed impuro, tu m'hai amato, tuo sogno signor. Per te lottare il tuo amor sicuro, è la mia gloria al mio supremo nome. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Riceviamo così, Signore, questa tua parola, che ci chiama a essere buoni amministratori della tua grazia. Possa il tuo spirito guidarci, possa guidare le nostre mani, le nostre azioni, le nostre parole, affinché possiamo diventare i tuoi testimoni nel mondo, e gioiosi servitori della tua parola, affinché i nostri doni, quelli che abbiamo ricevuto, possano essere uno strumento nelle tue mani. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione è stata curata dal pastore Davide Rostan.